Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma l'area di servizio di Bisenzio Ovest è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Lastra, Signa e Firenze Scandici. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!